Beautiful anticipazioni, Erick scomparso nel nulla, che fine ha fatto? Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful, cosa succederà nella puntata in onda domani 13 marzo 2018? Lo scopriamo con la trama per la puntata di Beautiful in onda il 13 marzo 2018. Come avrete visto negli ultimi episodi della sua app di Canale 5, le cose si sono molto complicate nella famiglia Forrester dopo le rivelazioni fatte da Sheila ma soprattutto dopo che Quinn ha scelto di raccontare la sua verità sulla tresca avuta Corrigge. Erick si è sentito tradire due volte, la prima dalla donna, che amava, sua moglie, la seconda da suo figlio non riesce a credere che i due abbiano potuto fare tutto questo. Beautiful anticipazioni, la trama della puntata in onda domani 13 marzo 2018. Brock interroga pesantemente Coco e R. Lunga fino a farsi dire la verità, hanno avuto un incidente perché Coco stava mandando messaggi mentre guidava. Intanto, alla spectra, arriva una telefonata di Caroline, che vuole parlare con Thomas, del figlio. Caroline, a quanto pare, parlando con Steffi di quello che sta succedendo nella sua vita e in quella di Thomas, rivela che vorrebbe che le cose tra loro due funzionassero di nuovo. Ma non è semplice visto che Thomas sembra essere preso dalla sua nuova vita con Sally. La giovane stilista dà al canto sua paura, che il ritorno di Caroline in città possa turbare Thomas. Il Forrester però la consola e le dice che non deve temere nulla perché la storia con Caroline è ormai sepolta e non ci potrà mai essere niente tra di loro. Carly va a trovare Shayla e lei prima lo ringrazia, poi, velatamente, lo ricatta, dicendogli che se non pagherà il conto del suo albergo, si vedrà costretta a rivelare che è stato lui ad informarla della relazione tra Queen e Ridge. L'uomo non conosce affatto Shayla e non immagina fino a che punto potrebbe arrivare e che cosa è disposta a fare pur di ottenere quello che vuole. Che fine ha fatto Eric? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani. Eric è scomparso da casa dopo che ha saputo da Shayla del tradimento della moglie con suo figlio. È disperato e non si fida più di nessuno e trova rifugio in un albergo dove alloggia anche Shayla. Ridge lo sta cercando, dopo la visita in ospedale a R.I. Lunga vuole chiarire con suo padre la questione. Anche Queen sembra essere preoccupata per quello che è successo. Nessuno però riesce a capire che fine abbia fatto Eric. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su canale 5. Non perdete la puntata di Beautiful del 13 marzo 2018 e le nostre anticipazioni.